Ciao a tutti, primi colpi di mercato in casa da Ternana, sono nell'arrivo diversi giocatori giovani tra i quali uno dall'Atletico Bilbao, la Ternana si sta già muovendo sul mercato un giocatore della Roma, un giocatore dell'Atletico Bilbao, un giocatore della Sverona, questi sono i principali obiettivi individuali da Capo Zucca, tutti giovani di qualità. Per il resto è uscito l'avversario della Coppa Italia che è la Casertana l'11 di agosto, restano Casasola, Luperini, resta De Boer, restano Vitali e la prima amichevole precampionato si farà contro il San Gemini che ovviamente è la città di residenza del ritiro della Ternana. Grazie per essere stati con me, se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna news.